Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Torna o non torna? È la domanda che tutti si pongono, Gemma Galgani farà il suo ritorno a uomini e donne o ci aspetta una grande sorpresa? L'estate è stata costellata di rumor su questa icona del dating show di Maria De Filippi, dopo che la dama torinese è stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso nella sua città. Ma cosa ci riserverà settembre? Maria De Filippi sembra avere preso una decisione definitiva su Gemma, e le prime indiscrezioni arrivano dal sito Anticipazioni TV. Per quasi 13 anni, Gemma ha occupato un posto fisso nel parterre femminile, cercando l'amore. Tra sfilate mozzafiato e la celebre storia con Giorgio Manetti, Gemma ha tenuto milioni di spettatori incollati allo schermo, regalando momenti di puro intrattenimento. Eppure, nonostante i tanti corteggiatori che si sono succeduti, la dama non ha mai abbandonato la sua famosa sedia trasparente. Mentre la produzione di Uomini e Donne pianifica la nuova stagione, una delle questioni più discusse riguarda proprio il futuro di Gemma Galgani. Secondo le prime indiscrezioni, la dama torinese dovrebbe rimanere nel programma per un altro anno, ma dal 2025 potrebbe esserci una svolta clamorosa, Gemma potrebbe diventare opinionista al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sferti. Questa mossa, se confermata, potrebbe scatenare reazioni imprevedibili, soprattutto da parte di Tina. Ma come risponderà Gemma a questa proposta? Per ora, è bene ricordare che si tratta solo di voci non ancora confermate. A complicare la situazione, c'è anche il rumor di un nuovo amore per Gemma, che sarebbe stata avvistata al mare in Romagna con un uomo più giovane di lei. Il settimanale, nuovo, ha parlato di un colpo di scena, insinuando che la dama possa aver finalmente trovato l'amore fuori dal piccolo schermo. Questo potrebbe rappresentare un ulteriore motivo per lasciare il programma, anche se per molti sembra improbabile. Ma davvero il pubblico di uomini e donne potrebbe fare a meno degli storici siparietti tra Gemma e Tina? Dipenderà tutto dall'amore e da quanto sia forte, ma i fan restano scettici sulla possibilità di un addio definitivo. E voi, cosa ne pensate? Gemma tornerà o ci sorprenderà con una nuova avventura? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie 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 Grazie